Musica Hello guys, Renderna here, benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale Stiamo di nuovo sul nostro fantastico Epicness amico Battlefield di quartiere Che è un incrocio tra Battlefield e Spider-Man, sapete, Spider-Man è amico di quartiere, bla 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 Quella roba lì, no? E quindi niente, ci facciamo un Team Deathmatch, dovrebbe essere Team Deathmatch, sì Su Ziba Ziba Tower E volevo avvisarvi che ovviamente oggi vi ricordo che sono al Comic-Con Questo video uscirà di giovedì 25, quindi sì, io sono ufficialmente al Comic-Con di Napoli ovviamente Quindi vi ricordo che ci sarò sia dal 25 al 28, tutti e quattro i giorni E se volete venirmi a trovare in fiera sicuramente mi beccherete tra le bancarelle della mostra Oppure, non so, fare un picnic con gli amici nei giardini che ci sono là di fianco Comunque state certi che se giro pagato un po' mi troverete Questo sarà un video abbastanza veloce, siamo sempre in live ovviamente, anche se non sembra per come sto parlando Dico, sarà un video abbastanza veloce perché sto registrando uno di quegli orari fantasticamente epici Che sono tipo, non so, tipo quasi mezzanotte E io domani mattina mi devo svegliare all'alba Quindi già dovrei essere a letto E in più, non so perché mi sono, come dire, ridotto, ecco ridotto All'ultimo momento per registrare un video Però, che devo fare? Invece di lasciarvi senza video ho preferito registrarne uno Anche se un po' più corto Semmai adesso tutti insieme al Together Now Sparando che la partita non finisca tra mezzo secondo Perché sinceramente sarebbe una bella rottura di coglioni Doverne cercare Un altro, mio Dio, ma quanta gente c'è E sono, e sono anche vivo Cioè, come ho fatto? Vabbè Facciamo così La 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 la, io mi curo Eccolo qua Ciao bello, sì 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 Oh I like, I like this I like this E' bellissimo, mamma mia Perché la gente cerca sempre di incularci? Oh, che Cristo granata Eh, ce l'ho vista dopo che ci sono saltato sopra come un, 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 non so cosa Quindi Quindi, I don't know Quindi I don't Oh Ok, ok Ok, fammi salire Ok Ok Curiamoci Non con un defibrillatore Non con un defibrillatore semmai Defibrillatore Provate a dirlo anche voi guys Tutti insieme Defibrillatore Mi, mi dite perché la maggior parte di voi Se faccio un video di, di Battlefield Non lo guarda guys Ho notato che c'è uno stacco Tra Battlefield e gli altri giochi che faccio Che è davvero notevole Mmm, non so Cioè, boh Non vi piace Vi piace Non devo farne più Devo farne di più Non lo so Perché poi Ricevo un sacco di messaggi tipo Renna fai più Battlefield Renna di qua Renna di là Battlefield quello Battlefield quest'altro Ehm, però poi Non ve l'ho guardato Cioè, già il video di ieri Ho fatto di Battlefield Ma lo sto registrando questo Perché ho detto Cazzo E che registro Ma al volo così E in realtà perché Vi spiego Io dovevo registrare un'altra cosa Che non posso dirvi Ma per un motivo Per un altro Non siamo riusciti a registrare E già ho detto siamo Quindi dovreste aver capito Ehm E comunque Visto che Non sono riuscito a registrare Ehm 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 E minchia stima bro Mi hai uno shottato Ehm Visto che non sono riuscito a registrare Per vari motivi Ho detto vabbè Aspetto 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 E alla fine ho optato per Per Battlefield Che Mh Com'è E' sempre il gioco migliore Secondo me Per quando devo riempire Un buco improvviso Ecco mettiamola così Quando Non so che gioco fare C'è Battlefield Battlefield è sempre lì pronto A salvare mille chiappe Come un vero compagno di squadra Grazie Battlefield I love you Si E beh Ehm Ehm Ultimamente Ultimamente devo anche dirvi Che comunque sto giocando davvero poco a Battlefield E beh Non ci ho mai giocato tantissimo Perché Preferisco giocare in compagnia E In effetti non conosco nessuno Cioè a parte voi fan Ehm Tra Chi c'è sul TS di Tom's Eccetera E in effetti c'è davvero poca gente Che a Battlefield O che comunque Ci gioca Ehm Per un motivo Per un altro Non ci gioco mai Mentre mi farebbe piacere Imparare a giocare Dice Già meglio Perché Ehm Già sarebbe una cosa Imparare Anzi Imparare a giocare Perché io non sto Io non gioco Io Io mi butto Quindi imparare a giocare E poi semmai E poi semmai anche migliorare Vedete vaffanculo Ci facciamo bel team deathmatch Di quelli Di quelli Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Madonna Guys Ci stava Ci stava quasi La Per poco non ho fatto la tripla Ma per pochissimo Non ho fatto la quadrupla Oh my gosh Oh my Oh my gosh Le tue gosh Ok basta Via 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 Da lì che c'è troppa gente Che spara Troppi proiettili Mina vaganti Vaganti Vagosi Che vaneggiano Che vagano E vaneggiando Va Vanno Ok Guys Allora La finita È partita qui No La partita è finita qui Non mi dilungo a fare altro Perché vi ho detto Sto andando di fretta Perché è tardissimo Quindi devo renderizzare Poi montare Poi oh mio dio Quindi Non riesco a fare altro Vi ricordo di venire oggi Se riuscite Al Comic Con O comunque Nei prossimi giorni Fino al 28 Sicuramente mi trovate Tutto il giorno Lasciate un mi piace Un commentino Iscrivetevi Alla pagina Facebook E al mio canale Enjoy E che la rena sia con voi Bye bye